la voglia di iscrivermi a un corso di tatuaggio è perché disegno mi piace disegnare quindi amo l'arte in generale io e mia sorella ci siamo messi su internet e abbiamo trovato la training academy volevamo prendere un attestato e iniziare un corso da tatuatrice o da microblending l'esperienza formativa è stata fornita molto bene faticissimi dinamici molto leggeri quando serviva di essere seri dovevano essere seri con noi quindi parlavano ridevano e scherzavano nel giusto nel giusto modo formativa divertente creativa assolutamente sì iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale